è bello, molto accogliante si sta benissimo come si coccolone tesoro eh? questo è tuo marito no? no amore io non sono sposata dai metti a posto, lascia stare adesso ceci bello tuo fidanzato? ma io non sono fidanzata sei neanche fidanzata e vabbè questo tuo fratello forse io sono figlia unica dai lascia stare, vieni qua, coccoliamoci e vabbè, tuo padre scusi non è mio padre cugino madonna, vedi che quando sei genoso sei proprio affascinante tu hai una foto di un uomo voglio dire, c'è chi è questo? ahhh capi, ma chi è? chi è? quello sono io prendo l'operazione chiamo Nicola grazie a tutti grazie a tutti Grazie.